Il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, prepara il discorso che terrà in Parlamento. Chiederà ai parlamentari se ancora credono che lei abbia la statura morale per continuare a fare il guarda sigilli dopo la telefonata con la famiglia di Gresti. In Edicola, sul Fatto Quotidiano. Da Trapani, dove sono stati eletti due segretari provinciali diversi, a Roma, dove sono volati insulti omofobi, tra compagni dello stesso circolo, Il congresso del PD è ormai diventato una guerra continua in mezzo a Italia, tra tessere gonfiate, ricorsi reciproci e accuse. Ed è ormai rissa continua anche tra i candidati nazionali alla segreteria. In Edicola, sul Fatto. Il governatore della Campania, Caldoro, dice che la campagna di Pomii contro i pomodori del Sud è completamente sbagliata. I nostri prodotti sono sicurissimi, controllatissimi. Non è proprio così e ci sono molte segnalazioni da questo punto di vista. Sul Fatto Quotidiano, tutte le testimonianze delle persone che se ne occupano ogni giorno sul campo.